Ha ormai preso la sua forma definitiva il nuovo argine in sponda destra dell'Adda dal ponte ottocentesco di Lodi alla provinciale per Montanaso Lombardo. Come noto l'intervento va a completare la serie di lavori messi in atto negli ultimi anni per evitare che il fiume zondasse nel suo tratto cittadino. All'appello mancava proprio l'argine finanziato con oltre 2 milioni e mezzo di euro dall'Aipo, l'agenzia interregionale per il bacino del Po. Nel tratto fra il ponte e la Piarda Ferrari è stato realizzato un rialzo pedonale che consente in questi giorni di ammirare il fiume Lombardo nella sua maestosa ampiezza. In Piarda, completamente rifatta, ha trovato posto un locale pubblico adattato alla zona che consente di assicurare ristoro a chi decide di passeggiare o percorrere in bicicletta il nuovo argine. Gli interventi sono ancora in corso nell'ultimo tratto del nuovo argine, quello che dal capanno porta all'innesto con la strada che conduce alla Martinetta. Anche qui, su due livelli, il nuovo percorso protetto si adatta alle esigenze dei possibili fruitori, pedoni, ciclisti e automobilisti, con una serie di dossi artificiali per ridurre la velocità dei veicoli. L'argine, di fatto, è ormai completo e nei prossimi mesi dovrebbe essere consegnato ai lodigiani, mettendo in sicurezza un'ampia fetta della città e consentendo a chi lo volesse di apprezzare l'Ada in tutta la sua bellezza.